Per un suo dubbio impertinente vuole scoprirse bene Rendere omaggio a Peppino Impastato, l'attivista antimafia che dedicò la sua vita alla lotta contro la criminalità organizzata in Sicilia attraverso la promozione delle arti e della cultura come strumento di emancipazione e di denuncia Musica, pittura e performance teatrale, una chiamata alle arti per sensibilizzare alla bellezza L'evento promosso da Libera si è svolto nei giardini Baden Powell a Barletta La bellezza, l'arte e la cultura come mezzo di riscatto, come mezzo di lotta per battere la mafia, la criminalità e una sottocultura che sta toccando anche la nostra città L'idea è quella di tenere in vita l'insegnamento di Peppino non soltanto attraverso una celebrazione e un ricordo ma rendendolo reale ed attuale Abbiamo deciso quindi di dare spazio alle artiste e gli artisti della città perché questo spazio venisse occupato dalla bellezza e non più dalla criminalità organizzata, dal degrado e dall'abbandono È soltanto un primo passo perché crediamo che l'antimafia sociale abbia un gran bisogno di esistere in questa città, abbia un gran bisogno di spazi e crediamo che quello artistico possa essere un buon momento iniziale Per vincere la mafia serve unire alla legalità passione, cultura e impegno così come si aspettano le nuove generazioni perché la mafia come qualsiasi fenomeno umano ha avuto un inizio e potrebbe avere una fine